Salve a tutti e ben ritrovati ancora una volta sul canale. Questo breve video un po' informale è fatto per mostrarvi quello che mi porterò domani a un matrimonio, il primo matrimonio con Nikon Z8, quindi vedremo come va sul campo. L'anno scorso facevo i matrimoni con 8,50 e Z7 seconda, quest'anno porto la Z8. Volevo provare a fare questo matrimonio con Z8 e Z7 seconda, però ho solo una FTZ e quindi ovviamente sarei un po' limitato come scelta di ottica, quindi ho preferito optare per 8,50 e Z8. Ringrazio ovviamente tutti quanti perché sul primo canale, quello principale, non questo qui, siamo arrivati a 7.000 iscritti, quindi vi ringrazio per il fatto che mi seguiate e mi fa piacere sapere che quello che faccio, quello che dico piace e interessa alla gente. Vediamo già due batterie in carica, poi qui abbiamo nella 8,50 un'altra batteria, nella Z8 un'altra batteria e qui altre due batterie, quindi in totale sono sei batterie. Mi aspetto di usare una batteria e mezza sull'8,50 e ne userò tre, anche abbondanti sulla Z8, sia perché la Z8 consuma più corrente, ma anche e soprattutto perché la userò come macchina principale, perché voglio testarla veramente tanto. L'ho già testata in altri eventi, per esempio in un saggio di danza, dove l'ho fatta lavorare davvero tantissimo, scatti a 10 frame al secondo, praticamente nessuna tregua per un'ora e mezza, si è scaldata tanto, tantissimo, la macchina era parecchio calda, poi ve ne parlerò nel video recensione, però non ho avuto nessun problema, quindi la macchina continuava a funzionare. Mi ha segnalato card calda, l'ho sostituita con una più fredda, che era, ce l'avevo in tasca, e quindi non c'è stato nessun problema, comunque scattava anche segnando card calda. Chiaramente ho fatto quelle foto dandogli proprio il massimo dello stress che potevo, cioè non l'ho mai spenta per praticamente due ore, però un'ora e mezza diciamo effettivamente di stress continuo. Autofocus continuo sugli occhi, praticamente sempre acceso, live view sempre acceso, cioè mirino sempre acceso, scatti a raffica a 10 frame al secondo, ho scattato tipo 2700 foto, una roba del genere, insomma, l'ho tartassato abbastanza, la macchina poverina. Poi vabbè, cosa mi porto? Mi porto ovviamente, ma non c'è proprio neanche nessun dubbio su questo, il 7200 2.8 VR seconda versione, obiettivo che per me ai matrimoni non può assolutamente mancare, come non può mancare mai un 24-70 2.8, matrimonio ci vuole assolutamente, non può neanche mancare un, diciamo, fisso più o meno grandangolare, questo che il 40 porto domani, ma potrei portare anche 35-8, stessa cosa, comunque un obiettivo del genere lo porto sempre a un matrimonio, perché è un obiettivo interessantissimo per lo sfocato, per la luminosità, per il fatto che è leggero, quando vai, soprattutto dopo la cerimonia, ma anche nei preparativi, a fotografare la gente da vicino, si sentono meno in soggezione quando arrivi con un obiettivo piccolino così, rispetto ad arrivare con un obiettivo del genere, fai meno fotografo e la gente rimane più naturale, ho visto che questa cosa funziona parecchio, poi mi piace come focale, me lo porto dietro, e poi mi porto anche il 14-24 2.8, obiettivo che non uso tantissimo ai matrimoni, però quelle foto che si fanno completano, diciamo, il racconto della giornata, mancherebbe non avere un 14-24, poi il mio socio anche lui lo porterà, anche lui porterà 24-70, anzi forse lui porterà un altro obiettivo, poi magari ve lo farò vedere, 70-200 anche lui, chiaramente, e lui porterà 8-50 e Z7 seconda, lì due batterie in carica, faccio il refresh di tutte le batterie, perché mi servono cariche, sono in dubbio ancora se portare, cosa che spesso faccio ai matrimoni, il 55 1.2, obiettivo di sicuro non nitidissimo, vi farò la recensione di questo obiettivo, perché lui crea un'atmosfera abbastanza magica, e se c'è tempo per usarlo, perché in realtà le foto che fai non è che ne salvi tante, perché è veramente poco nitido, però le foto che fai sono belle come atmosfera e come cosa, se c'è tempo di solito lo utilizzo, magari lo metto sull'8.50 e ci faccio qualche scatto, comunque se lascio mettere a fuoco a manuale, senza troppi problemi, anche con l'8.50, o comunque, beh, posso mettere anche sull'Z8 in realtà, ma vedrò. E altra cosa che mi viene il dubbio è se portare, visto che avremo un po' di tempo per i preparativi, non sarà molto stretto il tempo di domani, portarmi il 105 The Focus F2. Obiettivo interessante, che però ovviamente potrei usare solo sull'8.50, perché sennò sulla Z8 non andrebbe in autofocus. domani vedo, domani mattina vedo se ho voglia di caricarlo nello zaino oppure no, perché comunque poi più roba ti porti, più peso hai. Porterò ovviamente anche un flash, l'SB900, per sicurezza, per emergenza, se, che ne so, la chiesa risulta essere più scura di quello che è, ma la chiesa l'ho già vista, non è così scura. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Questa che è la stanza del caos, veramente c'è un casino in questa stanza, e quindi non guardate troppo in giro di cosa, in giro. E niente, spazio ce n'è ancora, il peso dello zaino dovrebbe attestarsi su, metti un chilo, due chili, perché c'è sull'FTZ, due chili, due e otto, insieme a due e nove, diciamo, con questo qui arrivi a tre chili, tre chili e cento, tre chili, quattro chili e sei in totale, più o meno, quattro chili e sei di roba, più, beh, il batterie, lo zaino stesso, comunque lo zaino pesa un chilo e mezzo, è solo lui. Quindi alla fine, vabbè, meno di cinque chili, e abbiamo tutto quanto per scattare in libertà. E ovviamente io al collo mi terrò quasi sempre una macchina, non so quale delle due, con il 70-200, perché uso praticamente sempre, e l'altra macchina variabile, con obiettivi variabili, che possono essere 24-70, 14-24, o il 40-F2, quindi probabilmente sarà la Z, quella che cambierà obiettivi, e l'altra, non lo so, adesso vedrò, perché magari, sì, magari il tele lo metto sulla Z8, che, non lo so, vabbè, vedremo domani cosa fare. Se gli sposi mi daranno autorizzazione, vi farò vedere anche qualcosa, magari anche di backstage, non lo so, domani chiedo agli sposi, se hanno intenzione, magari, di permettermi di farvi vedere qualche cosina, così vedete anche come si lavora sul campo, perché vi dico che faccio queste foto, però poi non ve le faccio mai vedere, solo che sono private, che non si può. Grazie a tutti per la visione, e alla prossima, ciao!